Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e oggi vi vorrei parlare di Gonzales e Rimpianto. Perché Gonzales e Rimpianto? Perché questo titolo per una carta che ancora non è uscita? Questo titolo è perché da stamattina, con tutte le persone con cui ho parlato, hanno praticamente espresso in maniera chiara il fatto che questo Dream Collection lo skipperanno a pari pari, quindi lo skipperanno sicuro. Però, secondo me, questo Dream Collection è l'inizio di qualcos'altro. Perché l'inizio di qualcos'altro? Perché questo Dream Collection sarà un pentimento, cioè sarà una cosa di cui tutti quanti ci pentiremo di averlo skippato. Sarà un pentimento per piccole piccole ragioni che ora andiamo a vedere. Per ora non abbiamo ancora le statistiche nello specifico, quindi ancora non si può dire precisamente se sia rotto o non sia rotto, anche se comunque maestro dell'area di rigore, dentro l'area di rigore, parametri per il 30%, bam! Ok. Poi c'è anche i killer di attaccanti tra le latenze, bam! Il problema, lasciando il legame con i tre giocatori di tipo tecnico che easy, easy, si fa facile, il problema è il legame con i tre giocatori di tipo R, di tipo club. Quindi devono essere club e devono essere R. Il problema qua nasce dal fatto che nel meta attuale le uniche possibilità, diciamo giocabili, sarebbero Gonzales, Kaltz e Robecaro. Diciamo che con queste possibilità la carta non viene istigato ad alculare la carta, oltre il fatto che anche riduce il tempo di sordimento del 50%. Se ci sono anche i tre giocatori di tipo club, di tipo club russi, come parlavamo prima, praticamente dà anche autoblock a tutto il team. Quindi per una persona che sempre gioca come me con quattro difensori, autoblock è una cosa carina. Certo, ormai tutti quanti ti tirano in bocca, nessuno ti tira da lontano, però comunque può fare il suo, può dare fastidio. Il problema è che ora attualmente non vedo nessuno che si mette a dire uh, io sotto sotto il Dream Festival vado a buttare non si sa quante Dream Ball per provare a prendere un personaggio che nel momento non mi è meta, perché questo Gonzales ora se esce, almeno che non si gioca con calze e Robecaro, è assolutissimamente fuori meta. Non fuori meta perché non ha statistiche buone, ma fuori meta perché preferisco utilizzare altro per vincere le partite, perché anche esempio il legame del fatto 15% autoblock, esempio devi giocare Robecaro, Robecaro non c'ha nessun blocco, quindi già è buttato. Ma, 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 questa carta è l'inizio di qualcos'altro, ovvero questa è una teoria campata nella mia testa, che potrebbe essere così come non potrebbe essere così, ma, teoricamente parlando, fine mese Super Dream Festival, naturezza, club, rosso, e quindi facciamo già un rossino in più. Se poi vogliamo aggiungere il fatto che la Kelab ha chiaramente detto che a gennaio e a febbraio ci sarebbero, ci saranno, non ci sarebbero, ci saranno, ci saranno due portieri al pari di Genzo, là ci buttiamo in mezzo un bel portiere rosso club, e pacca! Che cosa esce? Esce che praticamente Gonzales spacca i culi, Gonzales spacca i culi, perché là in quel momento è il momento preciso in cui ti penti di non aver pullato questo Gonzales, perché ora non serve a niente nell'attuale, ma tra due mesi questo Gonzales sarà oro. Questo logicamente è un pensiero mio, non è detto che andrà così, non è detto che succederà, ma è un pensiero mio, è anche una storia molto prevedibile, perché Super Dream Collection è abbastanza easy che esce a naturalezza rosso, e sappiamo che è club. È stato già detto che ci saranno due portieri al pari di Genzo, e il meta attuale del gioco, cioè il gioco sta attualmente sfornando tutti i giocatori club, molto facile che il portiere rosso che sia al pari di Genzo sia proprio un club, e quindi in quel punto questo Gonzales prende un valore inestimabile. Cioè in quel momento questo Gonzales spacca, poi per l'amor di Dio c'è che ha Genzo 0,01 e quindi già può effettuare questa teoria che sto pensando io a fine mese, almeno che Naturizza non sia verde, e là se Naturizza è verde ce lo mettono, cioè la mia teoria lo mettono proprio nel vero ten, però nel caso in cui Naturizza sia rosso come penso io, tutto fila perfettamente secondo una logica, nel caso in cui Naturizza poi sia verde e quindi non sia rosso, la mia teoria salta totalmente. Ma siccome la Kelab è abbastanza prevedibile, perché buttare un giocatore del genere nel Dream Collection che non sbalza niente, non è d'impatto, perché fare una cosa non d'impatto? Ora che loro vogliono che noi utilizziamo le Dream Pool, perché fare una cosa non ha impatto? Questa è una cosa d'impatto, solo che attualmente sembra che non lo è, ma questa è una cosa d'impatto. E questo lo noteremo tra due mesi, quando ci saranno gli arabi che hanno pullato, perché pullano qualsiasi carta che esce, e noi invece non avremo questo contale, se là vedremo la differenza tra chi l'ha preso ora e chi non l'ha preso. E non è chi non l'ha preso. Logicamente prima che ritornerà il retap passeranno sei mesi, quando ritornerà sarà già sei minuti, quindi diciamo i tempi d'oro sarebbero pullarlo ora e di utilizzarlo, quindi se tutto va secondo i piani. Logicamente ragazzi, stiamo sotto il Super Dream Collection, quindi è follia pura andare in un banner per una carta che poi dopo teoricamente si dovrebbe attivare, cioè attivare, non parlo proprio, che si dovrebbe attivare dopo. Cioè non stiamo giocando a Yu-Gi-Oh! che ci sono le carte trappola che poi si attivano. Però la teoria vuole questo. Anche perché se non fanno così, questo Gonzales è inutile. Secondo me fanno così. Questo poi è un pensiero mio che magari qua nasce e qua muore. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Logicamente oltre Gonzales, il banner comunque presenta due gemellini Smith che sono due belle rotture di coglioni e che anche due gemellini Smith sono ottimi. Non per me, ma sono ottimi in generale. Quindi comunque è un Dream Collection con i fiocchi. Però è un Dream Collection che attualmente è molto più facile dire io schifo per andare al Super Dream Festival che dire io vado, investo e mi prendo questo Gonzales. Perché attualmente sembra senza valore, ma non è senza valore. Poi faremo i conti tra due mesi. Quindi per questo video è tutto. spero di aver spiegato bene la mia teoria del perché questo Gonzales secondo me sarà una carta top che rimpiangeremo di non aver pullato. Fatemi sapere se siete d'accordo con me o se sto diventando semplicemente pazzo. Per questo video è tutto.